Allora, come vedete è passato più di un anno e siamo sempre alle solite, non è cambiato niente, la strada continua ad essere sempre chiusa e, ripeto, si continua a vedere sempre lo squallore, non viene più nessuno, le persone ormai stanno alla larga perché non notano qua un via vai di vigili, quindi i giorni passano e le persone si allontanano, quindi non so cosa dire, non so come si potrebbe risolvere questa cosa. Vedo il signor sindaco si faccia un esame di coscienza, i signori consiglieri rivedono questo piano che hanno fatto perché così non si può andare avanti, credetemi, siamo alla frutta ormai, quindi che rivedano tutto, se facciano un esame di coscienza e dire abbiamo sbagliato a fare quello che abbiamo fatto.